Non c'è niente di più bello che stare a casa, a guardare aspettando il PG, mentre qualcun altro cucina. E stasera vi farò vedere due ricette molto particolari che onorano un po' la nostra tradizione. Uno è un dolce che da un po' non facevamo. Abbiamo fatto il tiramisù, abbiamo fatto dei dolci un po' particolari, ma avevamo voglia di un dolce che avesse un qualcosa di raffinato, un tocco raffinato, ma al tempo stesso un dolce di quelli veri che si fanno per i bambini, per i nonni, per il tè, insomma di quelli che avendolo in casa ti fa un gran piacere arrivarci rattorato e prenderne ogni minuto un bel pezzettino. E poi invece faremo un piatto molto particolare, particolare perché è legato alla storia di Caterina dei Medici, quindi i nostri amici francesi continuano a dire che è un piatto loro, noi continuiamo a dire che è un piatto nostro, noi aspettando il TG diciamo che è nostro e vi faremo rivedere la ricetta perché torni anche nelle vostre tavole. È da considerarsi quasi uno di quei piatti, potremmo dire, di quelle ricette del ricordo che è legato proprio a questo periodo dell'anno e agli ingredienti che proprio in questo periodo dell'anno si trovano, quindi l'arancio e soprattutto un'ottima papera. Va bene, chi potrebbe cucinarcele meglio della nostra Torina da Greve e la Rossella Rossi del ristorante da Verrazzano? Buonasera. Allora noi qui stasera lanciamo una sfida a tutti i francesi che ci stanno guardando. Ma di sicuro la nostra non è più buona. Ma non potrebbe essere. Senti, è papera o anatra? Questa è anatra. Ecco, e l'anatra è proprio il classico, no? Però in questa stagione, dicevamo prima, che quando c'è la raccolta delle olive e insomma inizia il freddo, è il momento di oca, anatra e papera. Perché si possono farlo in tanti modi? Perché sono carni grasse e quindi in un periodo che fa freddo, poi la gente prima lavorava nel campo, raccoglieva le olive, quindi aveva bisogno anche di proteine, di calorie. Noi magari se ne può fare anche un pochino a meno, basterebbe mangiarne un pochino, ma non troppo perché poi sono piatti abbastanza ricchi. Sono piatti soprattutto da tanto pane, perché uno ha bisogno di un ingolare, vero Torina? Sì, ci sono dei sughini, però voi li assaggerete, sono buonissimi. Ah sì, io vedo tante cose buone e veramente sono felice di farvela rivedere in una versione completamente, potremmo dire, dissonante da quella francese, perché noi la facciamo in nostra, è in pezzetti, non è cotta al forno, non ha, insomma, è una ricetta da fare a casa. È una ricetta proprio fiorentina. Esattamente, ed è quella fra l'altro che voi riproporrete proprio la domenica 16 fra il menu degli eventi della Biennale Enogastronomica. Ma tutti i giorni, fino al 30 di novembre, tutti i giorni noi abbiamo i piatti che abbiamo scelto dai piatti tradizionali della cucina fiorentina, quindi l'ala tra l'arancia o papera al melarancio, il baccalà inzimino, la carabaccia, insomma, tutti questi piatti. Poi proprio stasera brinderemo con il presidente dei confedercenti, Santino Cannamela, brinderemo proprio all'inizio, domani, della Biennale Enogastronomica. Veramente una serie di giorni, di eventi, che vanno dalle degustazioni particolari ai piatti particolari nei ristoranti che hanno aderito, alla produzione cinematografica, quindi film che vengono mostrati insieme a degustazioni. Insomma, talmente tanti e dopo Santino appunto ce li ricorderà tutti e daremo proprio ad Aspettando il Tg il benvenuto alla Biennale di quest'anno. E poi diamo il benvenuto invece alla nostra Anna Butini, la regina della confettura, la regina della marvellata, lei sta sua a San Donato in collina. In poggio, in poggio. Siccome per un anno ti chiamavo Anna Bruttini a San Donato in collina, oggi Anna Butini in San Donato in collina. No, Bruttini va bene. Ecco, lo sapevo. Noi abbiamo sempre degli scherzetti fra noi. Allora, lei non solo ha questo agriturismo, non solo fa queste cose buonissime, queste confetture, ricordiamo che ne abbiamo fatte con lei di veramente particolari, ma è una, potremmo dire, coltivatrice anche di antichi cultivar di frutta, quindi la frutta del tempo dei Medici, la frutta che magari ritroviamo nelle nature morte a poggio a Caiano, beh, insomma, da lei la troviamo. Esatto. Mi hai portato anche quei fichi, pensate al tempo dei Medici, i fichi, quelli mignoni che ancora non erano diventati grandi, finivano in una specie di confettura. Erano dei fichi caramellati alla fine diventati. Esatto, quindi una bomba veramente, molto molto particolari, brava. Oggi invece andiamo sul... Oggi andiamo... Allora, sì, quieto per modo di dire. Io lo sapevo. No, abbiamo, allora, una marmellata di mele con uvetta e rum. Cotorina, sei che sei qui, marmellate a Iosa stasera, eh. E poi anche un dolce particolare perché è un timballo di mele in sfogliata di mais perché adoperiamo le due farine con il mais e la farina bianca. Insomma, che vi devo dire? Una puntata eccezionale. Qui c'è proprio del vero stasera perché la nostra otorina è maestra di marmellate, lei le fa tutte, vero? Sì, le faccio anch'io, sì. Eh sì, infatti è qui che dice, ma questa non l'ho mai fatta, non l'hai mai fatta, vero? Mele, rum? No, no. No, eh? No, io l'ho fatta di prugne, di pesche, d'albicocchi. Sì, si può fare di fragole, di cotogna, di uva. Di stagioni, di ciliegie. Sì. Ora, ecco, ora le si farà d'arancia, appena il momento. Quella, vedete, con lei l'abbiamo fatta in televisione, verrai tu a farmi quella d'arancia e lei mi farà le scorzette d'arancia a cioccolato. E va bene, ecco. Allora, prossimamente, va bene, prima diciamo di Natale, perché così potrebbe anche essere una bella confettura di, anzi, marmellate di arance regalo, da regalarsi, così come le scorzette invece da mangiarsi perché non arrivano a essere regalate. Allora, io vi voglio ricordare però il quiz di ieri sera, perché ancora in palo ho ricevuto tante telefonate nel pomeriggio di persone che mi dicevano, ma se uno il giorno prima non è stato richiamato, il quiz va al giorno dopo, che succede? Succede che bisogna ricominciare da capo. Allora, ieri tentavamo di avere la risposta sulla milza che qui vi faccio vedere, milza di vitello piccolo, che ha un peso di, lo voglio sapere da voi, il regalo che vi verrà recapitato a casa è una serie, consiste in un pacco con una serie di prodotti dell'azienda a Sant'Egle vicino a Sorano e compreso anche dello zafferano che fa rima con Sorano e almeno ce l'abbiamo messo in più, va bene? Allora, telefonate perché dopo avremo anche un altro quiz con in palo una bellissima cena proprio per domani sera, quindi affrettatevi con la milza, va bene? Allora, prima iniziamo con l'anatra e dopo si va di qua, va bene? Ecco, va bene. Sì, guarda, arriva a Santino, avrà... Pronta. Questa è l'anatra, l'abbiamo già tagliata. Ecco, quanto costa un'anatra? Come scegliere l'anatra giusta? L'anatra, le sono quelle, non si dice mute. Mute perché non ti hanno mai detto nulla? Otorina, dimmi. Si dice così, non so perché. Perché le sono quelle migliori. Perché le sono quelle più buone. Le sono quelle più buone, capito? Quindi non sono quelle che fanno qua, 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 qua. No, no, non le stanno zitte. Scusami, l'anatra mute è quella tipo, con i colori del tipo germano o no? Che colore ha l'anatra? L'anatra, sì, può essere un penne un po' vario pinto, un po' un colore... Non so. Un barroncino, ma non bello. Mettetevi d'accordo. No, non ha un colore bello. Che colore ha? No, le ci sono bianche, le ci sono tanti colori. Ci sono nere, col collo bianco, le cose rossi, le ci sono... Ci sono di più colori, l'anatra, sono vario pinte. Va bene. Allora, detto questo, quindi l'anatra quanto costa all'incirca, eh? Ma sai, io quanto la costano in negozio, sinceramente non lo so perché la compro lì. Ma voi a greve, scusami, eh? Voi a greve avete fra l'altro delle macellerie eccezionali, per cui capita che la prendiate lì? No. Voi dove la prendete? La compro da quello mi porta polli, conigli, il famoso collo... È il collo rosso, quello... Collo nudo e rosso di Montesperto, lì mi pare, no? Che mi costa a me 5 euro il chilo, ora quanto lo vende in bottega non lo so. Ebbè, insomma, allora pensate un po', la nostra Rossella nel suo ristorante, mentre io mi affanno appunto a sistemare, ad accendere i fornelli, Allora, la nostra Rossella ha esattamente un fornitore particolare di un pollo particolare, che è il pollo dal collo nudo rosso, che abbiamo detto... Pollo rosso da collo nudo. Scusa, non è la stessa faccenda, il pollo dal collo nudo rosso no, perché sarebbe l'aggettivo collo rosso nudo? È un pollo. È un pollo rosso da collo nudo. Stasera ce l'ho qui fennuti, va bene. È un pollo allevato a terra, molto buono, con la carne attaccata al rosso. È anche questa carne buona, è buonissima. Infatti, devo dire la verità, la bellezza della carne dell'anatra si vede sia dal colore sia dal grasso. Vedete che è sì del colore del grasso, però comunque guardate com'è bella la carne qui sotto, questi pezzetti così rosa, rosa intenso. Quindi abbiamo detto che non si sa il prezzo dell'anatra, che deve essere muta e che deve essere tagliata a pezzetti. Ma a pezzettini. Però vedo anche che l'avete privata di una parte del grasso. Un po' così si toglie perché poi la viene troppo unta. Eh insomma, mica ci fa tanto bene, no? Sì, va bene, c'è. No, troppo lì troppo. Un po' di pelle, vedi. Queste l'hanno molto, molto, la pelle è molto alta, molto, vedi? Un pochino si toglie, la levo un pochino e poi non la lascio. Ecco, infatti per esempio in Francia la fanno anche intera, cotta al forno, ma proprio è laccata sempre su e giù con il succo di arancio che viene messo anche all'interno. Al tempo di Caterina De Medici però questa non era fatta con l'arancio come noi abbiamo oggi, ma con quell'arancio selvatico che era Marognolo, vero? E che quindi ecco, aveva anche un nome leggermente diverso. Infatti, lo vuoi sapere? Sì, certo lo voglio sapere. Era il mela arancio. Era il mela arancio, l'abbiamo detto prima. No, pensavo fosse una domanda di quiz. No, ma che loro hanno paura che qua io... Io vabbè che sono cattiva che interrogo continuamente, te lo chiederò Santino sulla biannale, ma io... Io intanto metto questi... Allora, abbiamo messo l'olio. Possiamo ricordare per favore prima di tutto gli ingredienti? Siamo partiti dall'anata tagliata a pezzetti. Gli ingredienti sono anatra, la farina, l'olio e salvergine d'oliva, naturalmente, sale e pepe, arance, cipolla, brodo di carne, un bicchiere di vino rosso e dell'arancia, ci vuole sia la scorza che il succo, aceto di vino rosso e zucchero. Vai. Quindi questo è un piatto che diciamo è molto molto lungo, eh? È tanto a farlo. Ci vuole un bel po'. Ma, per esempio, siccome ha questa connotazione acidula, che è deliziosa, che compensa un po' il dolciastro della carne, dell'anatra... Eh, ma l'ha anche un po' l'amaro dell'arancio e le... Eh, infatti, acidulo, amaro, cipolle, ariduovo dolce... Ma ci si può condire la pasta? Boh, io non mi ha provato. Con l'anatra? Con l'anatra all'arancia? Ma, boh, io non mi ha provato. Proverò. Si proverò. Allora, vedete... Poi ha messo un'idea. Ora loro, pur di non dirmi di no, mi dicono di sì. Io, io... Non so, ma certo che no. Secondo me ci sta bene una bella fetta di pane, insuppata nel sughetto, quella sì, ma la pasta... Allora, noi certe volte... Io ho fatto con un'altra ricetta, quella che faccio io, si chiama l'anatra all'aretina, perché c'è un battutino con gli odori così, poi un po' di pomodoro e con questo sughino si condiscono proprio le paste. Come l'anatra. Sugo. Sì, esatto. Ma questa la faccio anche io. Allora, quella mia è una sorta di domanda tra bocchetto. Perché? Perché tutti questi sapori, in effetti, mal poi si conciliano con la pasta. Tirava là forse con un riso, guarda, perché un riso, vabbè... Beh, certo, c'è il riso allo champagne, il gorgonzola... Sì, insomma, però, insomma, questo, mentre la papera è in umido, la papera... La papera... La papera più originale, più classica. La papera con i sedani, i rocchetti, come si chiamava. Sì, quelli sì. Ecco, quella lì si avanza, e voi la sminuzzate, i rocchini, è squisita anche con la pasta, questa no, mangiatevela così, va bene? Che se la va mangiata così? Eh. Io la fò l'anatra a sugo, ma ci fò proprio il sugo con la pasta, ma che l'è squisita, il sugo dell'anatra. E qui è troppo dolce, insomma, aceto. Ecco, poi un'altra cosa, io non comprerei il petto, perché si trova a vendere anche il petto d'anatra, io comprerei proprio l'anatra intera con l'osso, perché cuocere con l'osso dà un sapore un pochino più... Ma certo, anche perché questa moda del petto d'anatra, ma sentite, ora basta, appunto, che cosa succede? Che ha non solo un prezzo molto più alto il petto d'anatra da solo, ma poi altra cosa a vedere l'animale intero, di cui noi sappiamo la provenienza, invece questi petti di anatra, a meno che noi lo facciamo estrapolare per farne magari proprio una cottura diversa, leggermente al sangue, il resto tagliarlo a pezzetti e farlo così, allora a meno che non facciamo questo, non sappiamo da dove viene, ci conviene molto di più, insomma, Anatra intera, ci vuol più tempo, ci vuol più tempo, insomma, andrà con l'osso, con l'osso è più saporita. Insomma, ci vuole l'osso, va bene? Telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Sì, sono resta da Carmignano. Oh, Beppe da Carmignano, ma lo sa che presto c'è una gran festa a Carmignano, vero? Sì, sì. I fichi, e quest'anno i fichi sono andati così e così, vero? Sì, ma un po' ci sono buoni, via. Speriamo, insomma, perché come si fa a onorare il Natale senza avere nelle nostre tavole i fichi di Carmignano? I fichi di Carmignano sono buoni, vero? Mamma mia, senta, lei è un esperto di anatra? No, mi cazzo a mangiare, per dire la verità. Non avevo dubbi. Qui ci sono proprio degli uomini che pochi stanno cucinando. Vi devo un po' tirare le orecchie, miei cari telespettatori. Ma lei cucina qualche cosa, qualche volta? Sì, niente, niente. Niente, neanche un uomo. Non ho proprio un'auta a mangiare. Sono da signora, non va bene. Ma, insomma, speriamo che lei ricambi tali gentilezze. Allora, sentiamo un attimo. Vediamo se la spirulina con tutti i prodotti dell'azienda di Sant'Egle andranno da lei. Questa milza che peso ha? Io ho 900 grammi. No, e che milza è? Quella è una milza gigantesca. È un vitellino piccolo. Niente. Allora, mi dispiace, continui a seguirci, così arriveranno i profumi di quest'anatra anche a casa sua. Va bene? Va bene, arrivederci. Allora, abbiamo detto un vitellino piccolo, non un, insomma, anche perché la milza pesa veramente poco. Allora, nel frattempo... Io intanto mi ho ci putto un po' di brodo, se no qui si attacca tutto. Avete visto che l'anatra, fra l'altro, deve fare un po' di crosticina, quindi è vero, perché se no si lessa. Poi si mette un po' di cipolla. Quindi hai messo prima il brodo? Sì, un pochino perché mi si stava attaccando. Ecco. Perché il problema di questi fornelli è che non sono come il gas, no? La base si abbassa subito. No, perché voi avete... Qui ci vuole un po' di tempo e allora bisogna... Quindi tanta cipolla, meravigliosa, tagliata a fettine, ma tanta ce ne va, eh? C'è tanta, tanta, perché devi fare il sugo, dopo deve venire un bel sughetto, eh? La fai subito, poi vedi, la fa bollire tanto, poi le vende tutto... Diventa praticamente una sorta di crema, un po' come il brasato che ho fatto l'altra sera. Che bei piatti! Questi sono piatti da domenica, veramente, quando chi arriva, arriva, arrivano i nonni, arrivano figli, nipoti, chi è? Condividere questi piatti. Condividere, poi sono quei piatti che, insomma, non sempre si ritrovano e a me fa molto piacere ripresentarli. Un altro po' di brodo, eh, perché... Vai, ancora brodo, poi ci mancano una serie di ingredienti, abbiamo visto che dobbiamo mettere l'arancia. Ora te lo fa vedere. Ora te lo fa vedere l'ottorina, come si fa. Io non vi faccio vedere nulla adesso, perché c'è la pubblicità. Ah, va bene, allora dopo. Anatra all'arancia. O all'arancia? Ma... Assaggialo. Devo assaggiare cosa? Questo sugo, ora devo assaggiarlo? Allora, mentre cuoce, va, torina, taglia... Bisogna preparare il sugo un tanto, eh. Allora, ricordiamo quello che abbiamo fatto, va bene, eh? Sì, si è tagliato l'anatra, affarinata, messa nell'olio extravergine d'oliva, si è fatta rosolare, si è aggiunto le cipolle, un pochino di brodo e ora... Aspetta, sull'anatra. Non lo sai, sto solito sull'anatra. Che meraviglia! Quest'ora non lo assaggio perché, insomma... Però vi assaggerò appena, guarda, una costina. E' una scorza dell'arancia. Poi vanno... Pelate l'arancia, messa la scorza a bollire. Caterina, per forza, si è portata tutto. Totorina, ti avrebbe portato su? Ma, subito. Vi vedi a Parigi, eh? Magari la risposta. Vedete se la scorza d'arancia. Allora, a parte questo, adesso vediamo come realizzare quella che è la parte che dà, potremmo dire, il nome a questo piatto e per la quale è diventata così famosa. E per la quale voi, proprio in questa stagione di arance, dovete ricominciare a farla. Allora, prima di tutto prendiamo delle arance non trattate. Questa è la cosa fondamentale. No, è vero, è vero, è vero. Vero? Sì. Poi le laviamo in genere con lo spazzolino. Con lo spazzolino. E poi si taglia la scorza, si fa quadrettini. Poi si mette intanto l'aceto. Intanto, scusa, mi hai messo aceto o di vino rosso? Aceto o di vino rosso? No, aceto o di vino rosso. Zucchero. Quanto zucchero? Guarda, abbastanza. Diciamo, su un bicchiere d'aceto o altrettanto di zucchero. Mamma mia. Bene. Senti, scusa mia Torina, ma noi dobbiamo lasciare il bianco, l'albevo? Sì, 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 così. Sì? E dall'amaro, perché del bianco è l'amaro. Del bianco che dall'amaro in mancanza delle vere, diciamo, arance, quelle di una volta, che però magari alcuni hanno, no? Sì, ma insomma, così le vengono un po' amarina. Io adoro la marmellata di arance amare. Perché è amara. Proprio perché è amara. Ma non ci sono dovunque questi tipi di arance. Vedi, guarda. Allora, adesso. Questa si mette qui. Sì. Poi ci si mette il succo d'arancio. Scusami, per quanto più o meno abbiamo detto un bicchiere di aceto. Un bicchiere di aceto e un bicchiere di zucchero. Poi un bicchiere di succo d'arancia. Un bicchiere di succo d'arancia. Un bicchiere di succo d'arancia. E la scorza di quanto, la scorza? La scorza anche di due o tre arance. Se tu metti due arance, la scorza di due arance. Due arance. Ecco, vedete bene. Bene. E poi ci si mette lo zucchero. Qui si aggiunge un pochino di vino bianco. Bene. Questo nella nostra anatra che deve continuare a cuocere. A bollire. A bollire. Per un bel po' di tempo. Perché l'anatra ci vuole tempo a cuocere. Una classe fa 5 minuti. Allora, avete visto che all'inizio abbiamo dato una bella sbrucciacchiata. Perché la crosticina, il grasso potremmo dire, della pelle, è perfetto se viene croccante. E quindi se noi diamo la croccantezza subito, la croccantezza comunque ce la portiamo avanti fino alla fine del piatto. È un po' il concetto, pensate in oriente, del valorizzare la pelle che viene fatta proprio stra-stra croccante, mentre il resto viene valorizzato meno. Quindi ricordiamo questo passaggio che è importante. L'allunghiamo la cottura con il brodo. Per il brodo, per farla cuocere. L'altra un pochino, le tosta, un pochino per farla cuocere. E si aggiunge il brodo. Eh, beh, se no, insomma, sai quanto ci vuole. Allora, nel frattempo invece la nostra salsa. Questo è il sughino, sì. Che si fa per mettere sopra. Buonissima. Quanto deve cuocere? Eh, guarda, allora, quello sempre dipende dai fornelli che uno ha. Il risultato deve essere così. Così, dove lo metto per farlo vedere? Qui. No, tanto arriva, non ti preoccupare, sta arrivando da te. Vieni, rimettilo qua. Così, deve diventare così. Qui, appoggiamola. Ecco qua. Deve diventare così, un colore... E quindi quanto ci vuole? Ci vuole una mezzoretta anche anche. Una mezzoretta, ma che dipende da te l'è, questa lì tanta, ma anche un'oretta. Quindi noi ce la possiamo fare anche prima. La si deve addensare. Sì, sì, sì. Mamma mia. Mentre ti vuoi c'è l'anatra, ti prepari il sugo. Sì, ecco. Poi, chiaramente l'anatra, una volta che è cotta, va servita nel piatto con delle fette d'arancia, che tra l'altro... E poi tanto dopo lo facciamo, ora abbiamo tempo, perché adesso dobbiamo continuare a cuocerla. Il fatto è, quando prima abbiamo detto, ma ci si può condire la pasta? No. Possiamo metterci questo? No. E' che questa salsina, per esempio, all'arancio, è molto difficile da abbinarsi. Quindi qui è perfetto. Su una fetta di pane non ci sta mica mai. Però è tanto acetosa, quindi diciamo che è nata storicamente con l'anatra e con l'anatra ha da morire. Sì, però guarda, secondo me non le sta male neanche su un bel bollito. Devo dire la verità, non lo so. Bisognerà chiedere a qualcuno, va bene? Si può provare. Sì, perché l'acidulo ce l'ha, è un po' il concetto della cipolla, però è questo arancio che alla fine rimane veramente molto forte. Forse sai con che cosa? Con la lingua la metterei. Ecco, con una carne un po' da sgrassare. Allora, a questo punto una bella telefonata per vedere questa milza quanto pesa. Pronto? Buonasera, Anna Maria. Buonasera, il suo nome? Sono Paolo Dallucca. Ah, Paolo Dallucca, lei è un'istituzione. Le volevo dire una cosa, lei dice che gli uomini non cucinano mai. Io ieri sera ho fatto la polenta di neccio con la ricotta di pecora. Ma lei è un uomo speciale, scusi. Era favolosa. Non ho dubbi, praticamente vi ho punti sul vivo potremmo dire. Eh sì, è vero. Allora, uomini che invece cucinano, telefonatemi così onorerò le vostre ricette. Allora, senta, mi racconti invece di questa bella decisione ieri sera di cucinare lei, lo fa spesso? Sì, ogni tanto lo faccio, mi piace. È buona, è quel piatto che ha fatto lei, che si chiama la pattona, no? La pattona, sì. No, la polenta di neccio con la ricotta di pecora. Sì, io la chiamo la pattona. Polenta, lei la chiama la nostra, te la chiami Anna la pattona? Sì, l'ha fatta tante volte, viene con una polenta, però invece con la farina gialla, di mais, con la farina dolce. Con la farina di castagna. Con la farina di castagna, è piatto sostanziosissimo, però di facile digestione. Lei ha dormito bene, immagino. Sì, perfettamente. Non avevo dubbio. Ha bevuto un bel bicchiere di vino rosso? No, acqua. Acqua? Bevo acqua la sera. Lei la sera, lei allora è molto morigerato, mi fa l'idea se è anche uno che tiene alla linea? Sì, insomma, ho anche qualche bizzietto, la cucina mi piace, sa. No, ma quindi... Dolci poi. Insomma, ha perfettamente ragione di voler mantenersi bene, no? Eh, certo. Senta, e oggi cosa ha mangiato per finire ormai le sue ricette? Oggi ho mangiato gli spaghetti alle arzelle, al sugo di arzelle. L'ha fatto lei? No, mia moglie è quello, bravissima a fare i sughi, quelle cose lì. Quindi capisco, la sera ogni tanto se può lei aiuta. Lei sa fare la pizza? No, 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 no. È perché tutti gli uomini dicono che il sabato sera fanno la pizza in casa, non lo so. Preferisco comprarla. Preferisce comprarla, eh? In effetti è un'idea come un'altra. Allora, vediamo, lei ha bisogno di ferro? No, veramente no. Allora, insomma, la spirulina andrebbe dalla persona sbagliata, quest'alga? Ma eventualmente la userebbe mia moglie, che lei è sempre scarsa di ferro. Allora, va bene, dopo diventerà una virago, perché guardi, quando uno ha carenza di ferro, è un po' quieto, un po' tanto, insomma, dopo vedrà. Vediamo se la spirulina con tutte le cose dell'agriturismo di Sant'Egle, della Coldirette, andranno a finire a lei. Quanto pesa la milza? 320 grammi. No, io però, siccome era già stato detto, le darei un'altra opportunità. Ah, ecco, allora va bene, perché gliel'ho chiesto io. Allora, 280 grammi. Niente, niente. Mi dispiace. Va bene, sarà per un'altra volta. Assolutamente prestissimo. Tante cose. Grazie. E saluti sua moglie. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, mentre noi continuiamo qui a seguire questa anatra, vero Rossella o Torina? Ecco, bisogna guardarla perché si attacca con facilità. Qui bisogna stare anche a guardarla per due ore? Sì, perché le cose con la farina si attaccano. Perché ricordiamo che all'inizio abbiamo messo la farina, che è quella che quindi farà la cremosità del sughino, però ci fa attaccare tutto. Eh, bisogna stare attenti. Ecco, non è che ci si può distrarre. Ma è vero che voi avete inserito questo piatto fra i piatti dimenticati che sono stati suggeriti durante questo periodo della biennale per poter essere riproposti? Sì, esattamente, da ora fino al 30 di novembre. Da ora fino al 30 di novembre. Per il periodo della biennale. Allora, vogliamo dare invece il benvenuto a Santino Cannamela, eccolo qua, presidente della Confesercenti, buon amico da aspettare il TG ormai, insomma, da tanto, tanto tempo. Buonasera, buonasera a tutti. Sono arrivato un po' fornito. Hai pensato a noi, guardate. Una bottiglia per brindare all'inizio della biennale è un programma della biennale stessa, così vi racconto che cosa facciamo. Allora, biennale giustamente è rosa, quindi l'hai portato in rosa e quindi guardiamo e seguiamo tutto questo programma per la biennale. Poi faremo anche il quiz regato alla biennale. Certo che sì. Allora, iniziamo subito domani. Come? Domani una bellissima cena con un abbinamento fra cibo e gelato un po' salato e un po' dolce che delizierà i palati di chi verrà. Ecco. E questa dove è? Questa al tepidarium del roster, ovvero la sede dove viene fatta usualmente la mostra dei fiori, in via Bolognese o via Vittorio Emanuele, perché si può entrare sia da un lato che dall'altro. Praticamente è il Giardino dell'Olticoltura, che sarà uno delle location, forse quella più prestigiosa, dove poi verranno fatti lezioni, show cooking, presentazioni di libri, cene di gala e meno. Cene di gala, ci saranno degustazioni, l'Elba si presenterà in città e porterà i vini dell'Elba ad assaggiare al pubblico fiolentino e non solo. Degustazioni sulle vecchie annate, cene di solidarietà, cene di gala, perché pensiamo anche a chi è un po' più sfortunato di noi, vedi Genova o vedi Carrara, che in questi ultimi giorni purtroppo sono state vittime di una bruttissima alluvione, quindi una bella cena di solidarietà per loro, ma anche tanta formazione, tanto divertimento, tanti eventi sul mondo dell'enogastronomia. Allora, di eventi veramente ce ne sono talmente tanti per soddisfare ogni tipo di gusto. Ne parleremo in modo molto più accurato, di volta in volta, perché diverse trasmissioni saranno dedicate ai ristoranti che aderiscono appunto alla Biennale, risproponendo i piatti, potremmo dire, del ricordo, no? Esatto. Che devono tornare in auge, ma poi ci sono veramente tante altre cose. Per esempio c'è questo mercato particolare il giorno 22 e 21, 22 e 23. Durerà tre giorni in Santa Miranovella e troverete tanti prodotti dell'agricoltura toscana di eccellenza, tanti prodotti al chilometro zero e anche gli artigiani che proporranno tutti gli strumenti che poi servono in cucina. Qui ho visto degli esempi bellissimi di come si possono utilizzare. Hai nostalgie ad aspettare il TG quando cucinavi? Tantissimo, non vedo l'ora e mi rinviti. E ti riprendo subito. Ma poi parleremo anche appunto delle varie occasioni per poter degustare dei vini di qualità. Quindi ricordiamo anche con Riccardo Chiarini un appuntamento che è God Save the Wine, no? Esatto. Che unisce il vino alla voglia di stare insieme. E poi ci sono anche momenti legati invece ai nuovi testi di cucina. Quindi libri che verranno introdotti, commentati, presentati al pubblico. Poi parlavo anche di film, no? Parliamo di film, una rassegna di quattro film legati a quattro degustazioni che si svolgerà all'Alfieri. In realtà è già cominciata, è stata un'anteprima della Biennale. E per tutto il mese di novembre ci accompagneranno con visione di film e degustazione di vini in abbinamento. Ecco, insomma, allora domani inizio con il gelato. Quindi alla serra di Giacomo Roster ci sono ancora dei posti. Ha un prezzo piuttosto contenuto, considerando che è una cena servita a sedere con tante portate, dove viene esaltato quel qualcosa in più che è rappresentato dal gelato artigianale in versione molto particolare, no? Eh, assolutamente sì. Allora, mentre stappi, ricordiamo per esempio, va bene, lo facciamo ora o lo stappiamo alla fine? Lo stappiamo alla fine, così brindiamo e salutiamo i nostri ospiti. E brindiamo. E ricordiamo che poi Leonardo Romanelli è stato il direttore della Biennale, quindi molti di questi eventi sono orchestrati proprio da lui, così come sono scelti i piatti. Allora Santino, rimani qui perché io vorrei dare il peso della milza, se sono riuscite a indovinarlo, perché dopo vogliamo offrire l'opportunità di andare a cena proprio domani sera, no? Esatto, vorremmo fare un piccolo quiz e il più veloce e il più bravo avrà una cena per due persone proprio domani sera alla cena del gelato salato, ovvero il buffet di Procopio. Senti, dimmi un piatto, va. Un piatto di domani, spaghetti cacio e pepe, dove il cacio e pepe sono fatti di gelato e non di formaggio e di pepe, per esempio. E poi ci sarà un'assoluta novità con il dolce, che riproporranno i maestri gelatieri fiorentini il famoso castagnaccio, ma in versione gelato, un vero e proprio castagnaccio con l'uvetta e pinoli, il rosmarino, l'olio extravergine di oliva, ma gelato, freddo, da gustare a fine pasto. Quindi pensate, uno ha anche l'idea di essere più leggero con il gelato, buono, vero, eh? Se non ti sta attenti, questi maestri gelatieri artigiani fiorentini ci faranno anche l'anatra all'arancio, eh? Sono capacissimi di tutto, sono capacissimi di tutto, sì. Allora, continuiamo con il nostro quiz, per ora ringraziamo Santino, va bene? Ti aspettiamo fra qualche minuto quando abbiamo finito questo quiz. A dopo. Ed evviva la Biennale Enogastronomica e tutti gli eventi che sono stati inseriti in questi tanti, tanti giorni, perché dopo ricorderemo quanti sono i giorni. Allora, l'anatra sta benone. Sì. Va avanti da sola e zitta. Era muta. Zitta. Muta da viva, muta da morta. Prima era muta, ora proprio è mutissima. La nostra salsa abbiamo visto che sta praticamente cuocendo, anche se vi abbiamo già proposto la versione già cotta per farvela vedere, perché deve rapprendersi. Abbiamo messo un bicchiere di aceto e... Un bicchiere di zucchero. Zucchero. Poi? E il succo d'arancio. E le scorse dell'arancio. E le scorse dell'arancio. E le scorse, sì. E abbiamo fatto piano piano, piano piano, rapprendere. Sì, vai a bollire. Ancora, vai a bollire. E ce n'è, dovrebbero essere due ore, quindi noi vi faremo vedere la cottura che loro hanno portato direttamente da Greve. Va bene? Anna Brutini, vieni, dai, passiamo ai dolci, che c'è sempre bisogno di dolci. Si passa ai dolci. Quindi che ci fai oggi? Allora, questo timballo di mele in questa sfogliata di mais, perché si usano queste due farine. Allora, intanto usiamo questa farina doppio zero. È una farina biologica, non è proprio raffinata, però si usa questa. Quindi già il fatto di essere doppio zero la identifica fra quelle, insomma, un po' più... Sì, diciamo, è una farina più, non è esattamente doppio zero, è più... Ah, è uno zero e mezzo. Sì, è chiamata tipo due. Tipo due, però, diciamo, nel biologico non c'è il doppio zero. No, infatti. Però è fra quelle più raffinate, chiamiamole così, più fini. Più fini, quindi adatta per la pasta, per dei dolci particolari, soprattutto. Sì, più che altro per i dolci. Pasta tipo i tortellini, quella sfoglia fine, fine, se volete fare, tipo i pisci. No, ecco, siamo sinceri. Anzi, quella io uso il grano duro, insomma, sembra di grano duro. Senti, tu stai facendo questa, però, della marmellata parliamo dopo? Sì, possiamo parlare. Parliamo dopo, allora, iniziamo, va. Allora, intanto ho messo questa farina, esattamente 150 grammi, non è molto. E mettiamo, aggiungiamo questa farina qui di mais, che è una farina fioretto, cioè la differenza con la bramata è perché questa è sempre più fine, più adatta per i dolci. La bramata è quella un pochino più grossolana, che a me, per esempio, piace moltissimo nelle crocchette, fritte, polenta. Questa è quella per fare l'amor di polenta, ecco, uno dei dolci più famosi a Venezia, oppure nella zona vicina a Mantua. E questa... Mi piace tanto. L'amor di polenta. A me, fra l'altro, la farina di mais mi piace moltissimo, faccio anche dei biscotti, insomma, avviene un saporino molto buono. E poi fa bene per celiaci, quindi, ora in questo caso è unita alla farina, non è possibile, ma insomma... Si può unire per i celiaci la farina di riso, mettiamo insieme a farina di riso e a farina di mais, viene comunque buono. Allora, e quindi 120 grammi. Poi aggiungiamo dello zucchero, sempre la stessa quantità, 120 grammi, perché questo lo lasciamo un po' per dopo, in totale era 220, ma i 100 grammi lasciamo per dopo per fare il ripieno. Allora, dopo aver messo questo zucchero, aggiungiamo due torli d'uovo. Ecco. Bene, e incominciamo a lavorare un attimo questa pasta, perché viene una specie di pasta brisè, una via di mezzo fra l'impasto della pasta sfoglia e la pasta brisè. Benissimo, allora, noi abbiamo la pubblicità, mentre intanto stiamo inserendo il burro, quindi vi ricordo che inseriamo il burro nella quantità di... Di 200 grammi. 200 grammi. A pezzettini così, a fiocchetti. Perché si deve ritrovare, va bene? Si deve lasciare fuori dal frigo, magari prima, per apparire morbido. Tipo burro pomata. Sì, esatto. E così lo lavoriamo. Lo lavoriamo. Adesso pubblicità, forza, forza con la milza. Allora, stiamo realizzando due piatti veramente fenomenali. Lana tra l'arancia con Torina e Rossella Rossi del ristorante da Verazzano di Greve, e invece Anna Brutini di San Donato in Poggio, l'Oleando, nel nome della sua azienda agriturismo, sta facendo uno dei suoi mitici dolci. Perché sono mitici? Perché sono raffinati, ma al tempo stesso molto semplici, con quel sapore vero, senza troppe panne, senza troppe cose. Sono, fra l'altro, siccome lei è una donna pratica, molto facili, perché in genere ha scelto o ha rivisitato delle ricette. Di solito ho rivisitato, sì. I mitici sono semplici. Lei fa uno, uno, due, due, e così ce li ricordiamo bene. Brava, sì, esatto. Come in questo caso, in cui? Allora, in cui abbiamo usato due farine. Abbiamo messo una farina biologica bianca, diciamo più fine, esattamente 150 grammi. Poi abbiamo messo una farina fioretto di mais, 120 grammi. Poi abbiamo aggiunto due uova e lo zucchero, 120 grammi. Considerando che deve essere 200 totale lo zucchero, però l'abbiamo lasciato per addolcirci la fine. E poi abbiamo messo il burro che abbiamo tolto dal frigo un po' prima. Abbiamo fatto dei piccoli fiocchetti con le mani. Sono per lontano dolci. Esattamente, due etti. A questo punto formiamo, ci aiutiamo con le mani, ora qui ci vorrebbe un piano di marmo, come ho a caso. Oppure comunque una palletta così, che dobbiamo mettere avvolta nella carta da forno in frigo per un'oretta. Ecco, perché questa è una pasta che non è frolla, non è brisè, è pasta sfoglia. Sì, è una via di mezzo fra una sfoglia e una brisè. Comunque, dopo quando si è messa nel frigo, il burro cambia consistenza a modo di sciogliersi. Nel frigo si scioglie il burro? Sì, cioè, no, ma è un burro, sì, diciamo, prende corpo nella pasta. Esattamente, diciamo che comincia a rincorporare tutto quello che è la farina, eccetera, eccetera. Io, ecco, amo mangiarla così, mi sempre speluzzico anche questo. No, è buona, infatti. Se mi vede Santino, che ricordiamo a uno dei bar più celebri che abbiamo qui a Firenze, mi dirà di non farlo. Allora, questa qui l'abbiamo messa in frigorifero e adesso è dura come le pigne. Poi, che dobbiamo fare? Poi, allora, si prende una tortiera. Eccola. Si può sia imburrare e spolverizzare di pal grattato o altrimenti, per praticità, rimettiamo la solita carta da forno. No, diciamo che noi siamo pratici, perché dobbiamo fare tutta questa cosa? Otorina, hai visto? Brava, brava. Brava. Allora, questa pasta ha preso un'altra consistenza e in questo momento la dividiamo non esattamente a metà, ma una parte più piccola la lasciamo per sopra e la parte più grande per il disco della base. Della base. Sì. Tra l'altro, nel frattempo, noi abbiamo, vedo, tagliato delle mele. Che tipo di mele? Io lo vorrei inquadrare. Le avevamo messe, sono quelle tipo la mela rugginosa. Sì, la mela tipo una golden. Queste però sono ruggini. Sì, sono della valdichiana. Eccola qua, guardate queste mele che sono profumatissime. Sì, profumatissime. Adattissime per la cottura, sono splendide. Per queste preparazioni hanno una pasta consistente, però quando le mettiamo a cuocere si cuociono abbastanza velocemente. Si cuociono veloce, sono dolci, rimangono quel colorino bello, bello, giallino, sono l'ideale per la mela cotta, secondo me. Sì, sì, infatti. Una mela molto carina. L'abbiamo messa, ho preparato le varie fasi a cuocere con un po' di limone appena appena, poi quando sono disfatte aggiungiamo del vino. Ecco, quando sono cotte, avete capito, quindi noi abbiamo in sequenza, scusami Anna, allora in sequenza abbiamo le mele che avete visto prima, le abbiamo tagliate a fettine, a private della buccia, a private del tosto, eccetera, eccetera. Eccole qua. Le abbiamo messe a cuocere con un pochino di limone perché rimangano. Sì, perché non si anneriscono. Esatto. Dopodiché, una volta cotte, vedete queste sono cotte, c'è stato aggiunto del vino. Del vino. Questo è semplicemente vino rosso, vino chianti. Buone, queste sono mele buonissime per la sera. E anche un po' di zucchero, cioè lo zucchero rimanente, quelli 100 grammi che rimanevano d'alto sale. Esatto, bene. Quindi adesso... A questo punto abbiamo il rifieno pronto per il dolce. Questa, vedete, è una delle versioni, potremmo dire più alcoliche forse, della torta di mele. Una torta di mele particolare, ce ne sono talmente tante, pensate che io ho fatto un calcolo. L'altro giorno potrei trovare, solo fra amici e ristoratori, eccetera, circa 65 ricette di torte di mela diverse, l'una dall'altra. E questo è una grande... è bello. Quindi mi raccomando, onoriamo la mela perché la mela è squisita. Fa benissimo, costa poco. Costa poco e fa bene. Poi ci sono tante varietà, anche nel mio frutteto, tante varietà di mele. C'è la mela scodellina, dai nomi più insoliti, la mela san Giovanni, la mela cocomera. La mela cocomera. Sì, che è un po' rosata dentro. Va bene, allora la prossima volta verrai con la mela scodellina. Telefonata sulla milza, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, il suo nome? Francesca. Francesca, anche con lei ormai siamo delle habitué, è vero? Ha mai fatto l'anatra all'arancia? Buonissima. Buonissima, lei la fa in questo modo? Sì, all'incirca. Dove cambia? Ma io faccio il sughino un po' più denso. Ecco, quindi un po' più denso, ma dopo vedrà che quello che abbiamo già fatto è abbastanza denso. E invece su questa versione di torta di mele con le mele cotte, eccetera, eccetera, che mi dice? Deve essere buonissima, io non l'ho mai fatta, faccio la torta di mele normale. Quindi ma lei fa la torta tipo tartatin, quella classica francese, oppure no? No, no, io faccio proprio la torta con l'impasto normale, classica. Ecco, per quella proprio classica, classica. E che tipo di mele usa? Ma a volte le renette, a volte le gold, secondo voi che ho in casa, ecco. Ha perfettamente ragione. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a farle arrivare tutta questa serie di prodotti del Sant'Egle, individuandomi il peso della milza. Io direi 550 grammi. No, io rimango. Cioè, veramente, c'è, dai regia sono fogli, fogli, fogli di telefonate? Cioè, lei come ha fatto a individuare 550? È un aspetto di milza? Insomma, quando si va a fare la spesa si vede un pochino... È, ha ragione, ma io per esempio non avevo mai visto una milza, non l'avevo neanche mai comprata, quindi non l'avrei saputo. Però, giustamente, lei c'è arrivata perché si vede che ogni tanto lei compra la milza? Sì, faccio i crostini con la milza. E quanto costa, scusi, la milza? Perché tra le tante cose che ho chiesto, questa non l'ho chiesta. Quanto costa? Ma non costa tantissimo. Ora non me lo ricordo, perché io di solito la compro per le feste. Ah, per le feste, per fare i crostini, giustamente. Sì, sì, sì. Allora, mia cara, vuol dire che adesso lei avrà tutta una serie di cose buone per provare nei vari momenti della giornata, perché mi ricordo che ci sono cose estremamente dolci, ci sono delle confetture particolari, per esempio di ciliegie e ginger, c'è la spirulina, c'è lo zafferano, insomma, ci sono tante cose, va bene? Quante cose belle che vedo, eh! Eh, ha visto, guardi, sono tutte qui, le faccio vedere qua, queste qua, quindi le arriveranno. Va bene, contenta? Grazie, grazie. Anna Maria, un attimino solo. Sì? Volevo salutare tanto una mia amica di Calenzano. Sì? Che si chiama Bruna. Bruna? Sì. Ma c'è qualche motivo particolare per cui possiamo ricordare, oppure solo perché siete amiche? Siamo amiche, siamo amiche, sì. Va bene. Allora, tramite la televisione salutiamo Bruna, che viene, anche noi, che viene salutata e ricordata da Francesca? Da Francesca. Da Francesca. Senta, la saluto a questo punto. Grazie. E alla Biennale, vorrebbe andare alla Biennale No Gastronomica in uno di questi eventi, ce ne sono tanti, tanti? Come no? Allora, riattacchi il telefono e cominci a seguire il secondo quiz. Vieni subito Santino. Vai. Grazie, buonasera. Arrivederci a lei e anche alla Bruna. Eccomi. Sono pronti per il secondo quiz. Allora, Santino, pronti per il secondo quiz, che dà la diritta a cosa? Ad una cena per due persone al buffet di Procopio. Quindi domani. Domani sera al Tepidarium in via Bolognese. Alle ore? Alle ore 20 e 30. Questa meravigliosa cena. Avremo due ospiti in più, se indovinano il nostro quiz. Eh, se indovinano. Allora, siccome lui è buono, va bene, Leonardo sarebbe più cattivo, dovrebbe mimarlo. Dimmi un attimo, cosa vuoi sapere dai miei telespettatori? Allora, vorrei sapere a chi abbiamo intitolato la quarta edizione, in realtà tutte le edizioni della Biennale No Gastronomica, ma a chi abbiamo intitolato la quarta edizione di Biennale No Gastronomica Fiorentina. Un personaggio famosissimo dell'enogastronomia che è stato... Basta, 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 anche se cercano personaggio... Basta, mi fermo, va bene, non aiuto più. Non aiuta più. Allora, tu che hai questo bar eccezionale in l'India, le Domminzone, no? Esatto, sì. Te lo conosci? Lo conosco buonissimo, fanno delle cose buonissime. Ah, ecco, voi lo conoscete? Eh, ma qui è una bella gara a fare cose buone. Questo cantino è un boato, allora. A questo punto, che mi dici di questa pasta che non è... Lei l'ha definita un briseggiante. Sì, è una frolla un po' brisee, con una granatura un pochino più grossa rispetto a una frolla classica, che probabilmente ora poi la assaggiamo. Quando è finita... E vedi, infatti, le ho detto, voglio assaggiare questo dolce perché è tipo giudice, vedete? Conferirà croccantezza, di sicuro, ad un ripieno molto morbido, che sono le mele, e quindi in bocca ci sarà il croccante della sfoglia esterna e la morbidezza delle mele al vino, che profumino. Tu pensi, io tutti i giorni in un bar di fronte alla televisione prendo, ora un po' meno, ma insomma un giorno sì, un giorno e due no, una sfogliatina con la mela, perché io adoro i dolci di mela. Ma allora vediamo di infornare, di sistemare. Il forno va ad accendere? Sì, accendi a 200 gradi. Bene, qui ripetiamo cosa abbiamo messo per fare la base. Allora abbiamo messo le due farine, 150 di farina bianca, 120 di farina di mais, poi abbiamo aggiunto 120 di zucchero grezzo di canna e 200 grammi di burro a fiocchetti appena tolto dal frigo. Bene, poi abbiamo messo tutto. Abbiamo formato una palla e questa palla la mettiamo in frigo per un'ora, dopodiché la togliamo e incominciamo, la dividiamo non a metà, ma il disco in due parti diseguali. La base deve essere ovviamente più consistente. La base deve essere più consistente e la mettiamo, io la spingo appunto così con le mani per evitare che si rompa, perché è abbastanza fragile, perché è un po' sabbiosa. L'abbiamo detto, sì. Esatto. E l'altro disco lo metto su una carta da forno in modo da rovesciarlo sopra. Benissimo. Intanto abbiamo preparato il rifieno cuocendo delle mele a tocchetti, a pezzettini, con un pochino appena di limone e poi l'abbiamo messo nel rimanente zucchero, 100 grammi e nel vino. Perfetto, a rinzavire potremmo dire, va bene. A questo punto però... Cerchiamo di lasciare un po' di liquido, cioè di non mettere... Scogliamole un po', perché altrimenti diventerebbe troppo. Esatto. E finora è interessante, vero Santino? Molto interessante. Non ce lo so, aspettate ad assaggiarla. Siamo qui perché abbiamo stasera, questa è una gran goduria, abbiamo le bollicine per poter brindare all'inaugurazione domani della Biennale, della quarta edizione della Biennale enogastronomica, abbiamo l'ana tra l'arancia, insomma, per suntuosamente banchettare. E' buonissima, mando un profumino, anche l'ana tra l'arancia. Adesso. E poi così cerchiamo... Ecco qua. Poi mi diceva che se uno volesse invece all'interno mettere delle cose diverse, quindi per esempio... Ma anche la confettura. Una confettura che adesso vi farò vedere. Una confettura gustosissima anche questa, perché è una confettura fatta sempre con le mele a tocchetti. Permettete il cambio perché si stava bruciando. Allora, vedete, qui può essere messa o la mela, per esempio, tagliata alla mele minuscolissima con un pochino di zucchero e quindi per gli amanti della mela, diciamo, pura. Oppure possiamo mettere questa, che è una versione fantastica. Sì, possiamo aggiungere del rum, anzi, prima mettiamo, come ho fatto vedere qui, dell'uvetta a... Intanto mettiamola in forno. Sì, mettiamola in forno. Ecco, perfetto. Abbassiamo in forno a 180 gradi. Benissimo. Bene. E deve stare, diciamo, un 50 minuti circa. Allora, noi ci rilassiamo nel frattempo prendendo spunto per fare questa confettura a base di mele. Mele, un po' di limone anche qui. Di limone. Poi, se manca, un pochino di acqua, a seconda, per non farla, diciamo, attaccare. Poi dopo aggiungiamo lo zucchero. Io lo aggiungo sempre un po' meno della metà del peso della polpa. Ecco. E poi dopo, perché guarda anche alla salute, diciamo, e poi dopo metto un po' di uvetta a macerare nel rum e lo aggiungo, quando la marmellata ha già preso consistenza, a questa marmellata. Insomma, vi potete immaginare, questa è una marmellata eccezionale che può essere anche usata come ripieno, anche per uno strudel. Ma certo, anzi, mi è venuta voglia anche dello strudel. A questo punto io ricordo che il nostro Santino vuole sapere, per dare l'opportunità a due telespettatori, a una coppia, di venire alla Serra di Giacomo Roster, al Tepidarium, lì nel Giardino dell'Otticoltura, a Firenze, in via Bolognese, per la cena di Procopio di domani sera alle ore 20 e 30, quindi a base di gelato salato, piccole tocchi di gelato artigianale. A questo punto noi vogliamo sapere a chi è intitolata la quarta edizione della Biennale, ma è sempre la Biennale a chi è intitolata, va bene? E dedicata. A questo punto riesce dal forno fuori subito la nostra torta, mentre impiattiamo anche, facciamo vedere, l'anatra all'arancia, di cui abbiamo ricordato la ricetta prima. Eccola qua. Eccola qua. Questa è la torta, la apriamo? Sì, volentieri. Ricordiamo nel frattempo, con la videata, per favore, che cosa gli ingredienti. Mescoliamo due farine, 150 grammi di farina bianca, 120 di farina di mais, aggiungiamo due uova intere, poi dopo il burro 200 grammi, affiocchetti, e poi, dimenticavo, lo zucchero 120 grammi. Mescoliamo il tutto, formiamo una palla, la mettiamo in un frigo per un'oretta, e poi dopo stendiamo un disco più grande come base e un disco più piccolo sopra, e dentro mettiamo un ripieno con le mele cotte nel vino e zucchero. Bravissima, mele cotte nel vino, mele cotte normalmente con il limone e un pochino di zucchero, che dopo vengono a rinsavire, potrebbero rinsavire, veramente a riprendersi, dentro il vino. Vino ben scolato, tutto quanto nel forno, a 180 gradi per circa 50 minuti, quindi un forno abbastanza lento, perché dentro questo è un ripieno morbidissimo e deve prosciugare. Invece eccola là, l'ana tra l'arancia, che ricordiamo essere una ricetta che come si fa a greve non si fa da nessuna parte. A questo punto ecco il lotto Santino, che darà lo stesso domani, diritto, fino all'ultimo momento di venire lì da noi, e brindiamo a questa quarta edizione della Biennale No Gastronomica Fiorentina, che avrà inizio proprio domani con questa cena. Grazie a tutti, ovviamente buona serata con Italia 7, ovviamente. A rivederci a tutti, e viva la Biennale, cincine, grazie Rossella, grazie Torina, grazie Anna, grazie Santino, e in bocca al lupo, e viva tutti gli eventi.